Questo video è molto bello per chi vuole scoprire delle ragioni profonde dimostrate con scrupolo scientifico, dimostrerà la verità della fede che si poggia sulla Bibbia per certi aspetti fondamentali e di quello che Gesù ha rivelato come il fondamento assoluto uno e trino. Dovete solo avere la pazienza di seguire i ragionamenti. Farò un esame dimensionale cubico della totale realtà atomica. Noi solitamente siamo abituati a considerare la pura lunghezza dei 10 elevato a 10 angstrom considerandoli in una pura componente lineare. Invece dobbiamo fare l'esame riferendolo alla dimensione cubica dell'angstrom, ossia dell'unità dello spazio atomico, perché la dimensione cubica è quella reale, mentre invece la dimensione lineare è solo una componente. una volta che abbiamo capito di avere a che fare con 10 elevato a 10 angstrom cubici, accorpiamoli in un cubo che abbia tre lati uguali. Vediamo immediatamente che il valore del lato è di 2154,4346900 e mi sono limitato alle sette cifre della movimentazione totale del sistema cubico nel 10 alla 10, movimentazione che è data da 10 elevato a 7. Ebbene, questo lato noi lo percepiamo in due contrapposizioni. La prima è data dal suo terzo, la seconda è data dal suo triplo. Quando noi sommiamo il terzo al triplo, noi abbiamo l'unità di un'onda complessa che è costituita da due opposte presentazioni, quindi presenze, di questo lato. la prima è offerta dal terzo, la seconda è offerta dal triplo. Bene, il terzo del lato vediamo immediatamente che ha un valore molto molto significativo, proprio messo in relazione ad alcune cose che sono percepite dall'uomo quando nella sua essenza va a immaginare un'opera assoluta, fondamentale, che chiamerà l'opera divina, distinguendola in un'opera complessiva di sette giorni. Vediamo che questo valore che abbiamo ottenuto è proprio l'espressione assoluta di questo concetto. Infatti, settecento esprime il sette dell'opera completa nella dimensione cento del piano assoluto avente per base il ciclo dieci. Il ciclo dieci moltiplicato per dieci determina un'area assoluta che, messa in relazione al lavoro, cioè all'opera sette, è settecento. Quindi, in questo valore di settecentodiciotto virgola uno quattro quattro otto nove sei sei, noi abbiamo individuato il primo elemento che è costituito dall'opera assoluta. Ebbene, il secondo elemento che fa parte della unità spaziale è il lavoro trino di sei giorni, perché infatti sei più sei più sei è uguale al diciotto che affianca il settecento. Quindi, nel valore unitario, non quello decimale, abbiamo espresso interamente l'opera assoluta e il lavoro assoluto trinitario. Ora dobbiamo addentrarci nell'esame del tempo dell'unità. Il tempo dell'unità caratterizza il valore opposto, non quello spaziale, che è dato da 718, ma quello temporale, che è dato da un valore in potenza negativa. N elevato a meno 1 è un ennesimo. Un ennesimo è sempre un valore decimale, che esprime quindi il tempo dell'unità. E qui abbiamo il tempo dell'unità, dell'unità del lavoro. Infatti, abbiamo un primo quantitativo di 144, che è dato da 12 per 12, ma sappiamo che 12 è 6 per 6, quindi esso è dato da 6 più 6, ossia 12, per 6 più 6, ossia 12. Questo 144 è l'opera quadridimensionale, perché c'è qui l'intervento anche dell'uno e del trino, nelle quattro dimensioni della realtà, che si presentano così combinate, due a due. La prima volta si esprimono a livello unitario della massa. Il livello unitario della massa è il millesimo. Quindi 144 millesimi rappresentano l'unità della massa del piano del lavoro. È un piano, perché 6 più 6 è un piano nel suo 12 come lato, perché poi si moltiplica all'altro lato complesso del 6 più 6. Quindi abbiamo l'unità della massa del piano del lavoro complesso. osserviamo il valore che segue. È 89.666, ma noi dobbiamo capirlo, differenziando quel 89 nella la somma di un valore aggiunto a 66. 89 è il quantitativo di 13 volte in più del 66. infatti 13 più 66 fa 23. 66 più 23 fa 89. Quindi abbiamo il quantitativo di 23. 23 che cosa è? È 6 più 6, 12, più 6 più 6, 12, meno 1. Questo meno 1 è il quantitativo unitario di quel lavoro che era totale prima e riguardava quel valore che abbiamo visto espresso nel prodotto. Ora abbiamo tutta una somma che con la sottrazione di 1 è un 24 meno 1, 23 e che quindi fissa unitariamente accorpa. infatti 23 è un valore di accorpamento. Noi non siamo abituati nella nostra mente a calcolare i numeri indipendentemente da come li articoliamo. Ma 23, tanto per farvi capire, è 2 elevato a 3. 2 elevato a 3 rappresenta sulla base complessa 2 tutto il volume compresso. Quindi accorpa tutto il volume compresso nel 23. 23, tanto per farvi vedere quanto accorpi, è la dimensione 10 elevato a 23 che determina l'unità della molecola. Quindi 23 è un dato unitario di accorpamento. Poiché è riferito alla dimensione 10 alla 5 che nel ciclo 10 alla 10 esprime tutto il percorso elettrico oppure magnetico, nel suo valore unitario, perché è diviso per 10 alla 5. Infine l'ultimo dato che si aggiunge sono le quattro cifre del 6. 6, 6, 6, 6, 6, 6, il tutto alla dimensione 10 alla 7 che è proprio quella unitaria riferita all'opera assoluta. 10 elevato a 7. Come vediamo tutto il lavoro nel tempo dell'unità è veramente l'unità del lavoro perché è sempre riferita a 4 cifre 6 organizzate in modi diversi. La prima volta c'è 6 più 6 che moltiplica il 6 più 6, la seconda volta c'è lo stesso quantitativo che si somma, la terza volta si somma in un ordine progressivo di grandezze scalari. C'è un 6 mila, c'è un 6 cento, c'è un 6 decine e c'è una 6 unità. Quindi abbiamo visto che quando noi andiamo a dividere per 3 il lato che abbiamo ottenuto accortando tutto il volume della realtà atomica abbiamo un valore altamente significativo come espressione dell'opera totale ma anche del lavoro totale. E qui ci stiamo riferendo proprio a quei contenuti assoluti che la fede che fa capo alla Bibbia ha così bene espresso in 7 giorni di opera completa di cui il lavoro è dato solo da 6 giorni. E qui li abbiamo visti in una realtà di organizzazione numerica che è spettacolosa. Ora facciamo un altro esame. Abbiamo ridotto questo quantitativo al terzo facendo un errore perché non abbiamo valutato il lato nel suo valore. Abbiamo commesso l'errore di valutarlo nel terzo. Ora se aggiungiamo l'errore opposto di valutarlo nel triplo, noi lo valuteremo 9 volte il primo errore e considereremo il primo errore che abbiamo fatto come un valore unitario che è corretto pienamente quando è moltiplicato per 9. E aggiunto al 9 il valore unitario completa il valore assoluto del ciclo 10, che è il ciclo unitario del riferimento assoluto lineare. Bene, avendo considerato i due errori nella somma noi li raddrizziamo perché la somma ci rivela è il valore di 7181,4489666. Ebbene, questo è il lato rappresentato insieme dai due errori, averlo considerato nel terzo e poi averlo considerato nel triplo. Questa è un'onda in cui abbiamo commesso due errori uguali e contrari come la variazione di un'onda che conservi la sua linea di equilibrio e che noi l'abbiamo alterato valutandola la prima volta nel terzo e la seconda volta nel triplo. Fino adesso noi abbiamo calcolato però l'aspetto cubico atomico riferito a un solo metro. Ma non dobbiamo commettere l'errore di credere che anche qui abbiamo a che fare con un valore che è unitario e pieno. No, il valore pieno è espresso sempre dal valore cubico anche quando noi riferiamo l'unità atomica al suo assoluto sistema 10 alla 10 che è dato dal metro lineare. A questo punto dobbiamo calcolare che esistono tre metri a comporre il metro cubo e sommare proprio perché noi stiamo si stiamo occupando di velocità lineari e non di volumi sommare un metro a un metro a un metro. Insomma dobbiamo riferirci alla cubatura questa volta di tre volte 10 alla 10 angstrom cubici. Ciò fatto chiediamo al computer di determinare la radice cubica in modo da ottenere nuovamente il lato questa volta riferito all'espressione intera della realtà atomica che va riferita ripeto al metro cubico espresso nella somma dei tre metri costituiti dal lato. Ebbene abbiamo a questo punto che il lato è 3107,2325 059. Anche questo è un numero altamente significativo perché sempre in riferimento ai valori essenziali che sono percepiti dalla fede e io qui mi riferisco alla fede di Gesù Cristo che parla di un dio uno e trino. Qui questo numero ci rivela nei 31 quantitativi del cento, cento è il valore assoluto, quindi abbiamo 31, ci rivela un 10 più 10 più 10 più 10 più 1 ossia l'unità 1 espressa dalla trinità del 10 più 10 più 10 e nella quantità intera vediamo chiaramente tutta l'opera 7 di questo dio uno e trino ossia di questo fondamento uno e trino. Ma vedete noi stiamo arrivando a questi concetti assoluti che poi si rifanno ai valori assoluti in assoluto che la fede chiama dio ma questo è il fondamento reale della nostra realtà atomica come la consideriamo realmente da fisici. E' quando una Margherita Hatch viene e dice io non credo in dio ed è citata ed è chiamata tutte le volte che c'è da discutere di fede come se lei fosse una esperta, espertissima della fede da poterci mettere il naso, di fronte a queste quantità che sono l'espressione l'espressione nuda e cruda, pulita, oggettiva dell'unità e trinità di dio e di tutto il suo lavoro intero 7 e non può dire che quello che è detto dal cristianesimo che dio è uno ma è trino ed opera con il 10 perché 31 è proprio l'espressione una etrina di un'entità che opera con il 10 ed è 10 perché anzi è 100 perché questo 31 è espresso proprio in quantitativi assoluti che sono proprio il 10 per 10 del piano 100 nel tempo, nel tempo, quindi il dettaglio inverso rispetto a questo dello spazio abbiamo definito nuovamente valori altamente simbolici perché abbiamo nuovamente quel 23 che è l'accortamento qui dato nei quantitativi centesimi che se l'assoluto è dato dal 100 nel valore dei centesimi esprime il valore unitario di quello assoluto 100 essendo 23 sono proprio il giusto accorpamento e quando abbiamo poi il 25 che segue alla dimensione 10 alla meno 4 della realtà 3 più 1 quindi nell'inverso del 10 alla 4 che è dato dal 10 alla meno 4 e che lo unifica quando abbiamo espresso tutto ciò vediamo che abbiamo espresso esattamente il tempo quarto del 100 il valore assoluto tempo quarto della realtà 100 nel riferimento assoluto a 10 elevato a meno 4 e poi abbiamo infine quel 59 espresso alla dimensione 10 alla meno 7 dell'opera totale alla meno 7 perché sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cifre decimali quindi alla meno 7 dell'opera totale un 59 che rappresenta tutta la realtà quella elettrica quella che va da un lato solo della realtà totale che è 100 quella assoluta il 59 è dato da un 50 che è tutta la realtà in tutto il suo movimento 9 quello unitario quindi vediamo benissimo che quando noi abbiamo ottenuto il lato di questo cubo che possiamo chiamare generale messo in riferimento all'atomo perché non è riferito a un solo metro ma a 3 abbiamo che questo lato rappresenta tutta l'opera una etrina di Dio e tutto il tempo del suo accorpamento unitario ma anche qui la realtà nostra è di tipo ondoso noi abbiamo un ciclo 10 che è composto da due opposti sbilanciamenti uno è che il lato è diviso per 3 l'altro è che il lato è moltiplicato per 3 poiché il lato lo abbiamo ottenuto dalla potenza un terzo questo lato è espressione del 3 della dimensione spaziale nel terzo diventa quella unitaria perché questo è l'errore ma è un errore illuminante perché abbiamo un valore di 1035 virgola quel che segue che se consideriamo che il valore assoluto del nostro mondo binario si poggia sul 2 e ha 10 come potenza e vale 1024 questo numero supera il 1024 con un 11 virgola quel che segue che sono i vincoli unitari e li vedremo più avanti quindi sospendiamo un momentino quest'esame perché seguiamo un po' il tracciato scritto che si può seguire meglio fatto l'errore di avere calcolato il terzo ora facciamo l'errore che mette a posto l'errore ossia aggiungiamo il triplo ossia aggiungiamo tutto il movimento 9 di questo errore unitario tanto che 1 più tutto il movimento 9 rientri in questo ciclo assoluto dato da 1 più 9 uguale 10 e vediamo che cosa otteniamo quando sommiamo questa onda complessa otteniamo il valore di 10357 virgola 44 16 8 6 4 bene togliamogli il ciclo di 10 volte il 2 alla 10 ossia togliamogli non più 1024 ma 10.240 presentato come 10.240 che cosa significa 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 tutta la realtà 10.000 perché 10 alla quarta è tutta la realtà la cui potenza è data dallo spazio tempo dal 3 più 1 4 quindi tutta la realtà è 10.000 e 240 è tutto il ciclo di 10 giorni perché 24 sono le ore di un giorno 240 equivale a 10 giorni del movimento della realtà terrestre che noi la configuriamo semplicemente idealmente nel valore assoluto di 10 elevato al valore dello spazio tempo al valore 4 ebbene quando scorporiamo la realtà intera e tutto il suo tempo a noi rimane il vincolo il vincolo unitario sono tutti i vincoli unitari della realtà spazio temporale che è 3 più 1 e li vediamo ci appaiono con una chiarezza a dir poco impressionante infatti il primo quantitativo che appare è quel 100 che ho evidenziato in blu che è l'area assoluta infatti il riferimento qui è sempre fatto nel valore unitario all'area assoluta poi si somma il lavoro 7 no il lavoro 17 perché non possiamo aggiungere 7 7 lo aggiungeremo se avessimo calcolato il ciclo 11 ma qui stiamo calcolando la realtà assoluta 100 quindi adesso dobbiamo aggiungergli un 17 e che cos'è 17 espresso nei numeri della realtà ossia nei valori 3 più 1 4 è proprio il ciclo unitario del 4 che è 4 per 4 nella sua sezione ed è 1 nel suo flusso unitario e reale è un valore assoluto 17 ed è un numero primo importantissimo importantissimo che si trova giusto a metà dei due valori 16 e dei due valori 18 che hanno un alto significato sotto il profilo dimensionale questo valore secco così ben evidenziato da un numero primo esprime veramente il primato del ciclo unitario del 4 che è dato da 4 diviso 4 più il suo inverso 4 per 4 quindi 1 più 16 17 e con ciò abbiamo calcolato la parte spaziale dobbiamo adentrarci ora nel tempo decimale il tempo decimale è dato appunto da un valore inverso messo in riferimento al valore spaziale che è quell'altro diciamo positivo e non negativo con i valori inversi noi determiniamo i rispettivi tempi di quell'altro errore cerco di capire di farmi capire se 10 per 10 è l'area 100 anche qui noi stiamo facendo un errore è perché l'area 100 non è unitaria è 100 per essere unitaria deve essere calcolata nei tempi centesimi e quindi quando noi aggiungiamo a questo dato i tempi centesimi ossia un valore diviso per 10 al quadrato ossia moltiplicato per 10 alla meno 2 e vediamo che sono 44 il 44 è un'altra forma di presentare il 4 per 4 che lo considera come la somma tra 40 e 4 però è una rappresentazione di questo valore 44 che è il valore alfanumerico cabalistico della parola italiana 1 ma che è esattamente l'espressione unitaria del dio 1 e trino quando si considera il dio 1 nel 10 reso unitario nell'11 e quindi reale come 11 perché 10 è assoluto per renderlo unitario lo possiamo fissare nel 9 oppure lanciare in avanti nel 10 più 1 e diventa 11 e allora l'unità e trinità del dio reale è 11 più il triplo più 33 e quindi abbiamo 44 centesimi cosa sono? messi in relazione a quello che stiamo vedendo adesso la realtà la realtà è il 4 3 più 1 e che cosa abbiamo come le due cifre che seguono? abbiamo un 16 che equivale al 4 per 4 questa volta è il 4 per 4 riferito alla realtà decimillesima e poi abbiamo 86 e che cos'è 86? è 44 più 44 meno 2 poiché 88 è un valore assoluto quindi comprende spazio e comprende tempo e noi dobbiamo togliere di mezzo la dimensione trasversale del piano che è quando è unitario 1 e 1 dobbiamo togliergli un 2 tanto che 88 meno 2 diventi 86 e esprima con questo solo la lunghezza e non anche il piano bidimensionale quindi abbiamo tutta la lunghezza compressa il percorso in linea quello reale perché è calcolato nell'avanzamento però riferito alla realtà compressa data da 44 più 44 1 più 1 se volete esprimerlo in parole che rendono chiaro il significato di cosa è quel 44 e di cosa è quel 44 perché quando il nostro cervello dice 1 sta valutando senza che il nostro io bambino se ne renda conto il valore 44 infine l'ultimo dato è un 4 alla dimensione 10 alla 8 che è quella della realtà compressa data da 4 reale più 4 immaginario quindi quando noi abbiamo tolto il 10.240 a quel ciclo che abbiamo ottenuto attraverso la somma dei due errori del terzo e del triplo ottenendo quindi il ciclo intero del 10 però poi l'abbiamo tolto nello spazio e nel tempo nel 10.000 e nel 240 e lo abbiamo ridotto all'osso questo osso sono i vincoli dimensionali di tutta la nostra realtà c'è c'è quello essenziale del piano 100 di riferimento e poi c'è quello essenziale della realtà 4x4 più 1 e così abbiamo sistemato il 117 che è il valore spaziale nel valore temporale abbiamo il 44 poi abbiamo il 4x4 nel 16 poi abbiamo il 44 più 44 meno 2 nell'86 e infine abbiamo il 4 tutto il calcolo sta organizzando la percezione spazio-temporale 4 nei suoi vincoli stabilendoli esattamente alle rispettive dimensioni quella centesima della realtà assoluta quella decimillesima della realtà spazio-temporale quella ulteriore fino alla dimensione reale complessa 10 alla 8 che qui è vista in modo unitario attraverso il quantitativo 10 alla meno 8 io mi fermo l'esame che io faccio è proprio puntuale è lento in modo da dare il tempo di maturare queste osservazioni che non sono mai state fatte nella scienza umana ma che sono importanti perché rivelano in un modo chiaro e indiscutibile come quando Gesù dice padre ti ringrazio perché hai fatto conoscere agli umili quello che hai nascosto ai sapienti per cui gli umili immaginando Dio immaginando queste robe scrivendo la Bibbia definiscono l'opera in sette giorni eccetera in un modo assolutamente che sembra disorganizzato invece questi umili hanno ricevuto dalla realtà in cui noi siamo quella divina che ci trascende il significato vero assoluto di tutto ciò e noi qui lo stiamo semplicemente osservando finalmente dico finalmente da sapienti che partendo da dati assolutamente certi che sono proprio quelli della realtà atomica il cui spazio è assolutamente riconosciuto vero in 10 elevato a 10 in ogni metro noi abbiamo visto cosa succede quando partiamo da quello che è distribuito così tutto in linea noi lo distruggiamo semplicemente lo accorpiamo trasformiamo questo cubo che è espresso tutto in lunghezza nella sua forma accorpata e tale che abbia un lato che sia uguale agli altri due in una realtà che è finalmente come è quella nostra in cui x y z sono uguali abbiamo un metro cubo e non il flusso atomico tutto lanciato in velocità perché ha un fronte piccolo piccolo quando noi compiamo l'opera inversa di prendere tutto quello che è stato lanciato in velocità e lo mettiamo insieme con un calcolo la cui perfezione è indubitabile ci accorgiamo di quanta ragione abbia la fede di quantità Grazie a tutti